weee non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi dopo la patch 10.40.1 le notizie si sono raffrescate un pochettino per quello che riguarda ovviamente il termine di questa season di fortnite season che devo già dirvi si è allungata di un pochettino purtroppo sappiamo ufficialmente da epic games che la data di fine di questa stagione dovrebbe essere il 13 ottobre anche se alcune persone sostengono che in realtà potrebbe essere il 17 in realtà io credo sia più ufficiale pensare al 13 nel video di oggi ragazzi parleremo anche ovviamente delle overtime challenge come vi anticipavo nel video di ieri anche in questa season saranno disponibili queste sfide che ci permetteranno di avvicinarci o addirittura di completare il pass battaglia e di ottenere ovviamente un bel po di ricchi premi per accrescere il nostro armadietto altre news nella season 11 ve ne avevo già parlato e poi mappa 1v1 si ragazzi presente nei file di gioco una nuova mappa un nuovo concept di mappa che probabilmente stanno lavorando ancora e probabilmente porteranno nelle prossime season per quanto riguarda la possibilità di sfidare i nostri amici senza bisogno di giocare la creativa nelle mappe 1v1 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone e grazie anche a tutti voi che mi guardate ogni giorno nelle live su twitch mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la la domandina come sempre il fiocchettino ve lo devo fare ragazzi domanda di oggi molto molto semplice grazie come sempre per tutti i vostri commenti ma cosa ne pensi delle zone wars e non ve l'ho ancora chiesto ragazzi la modalità che hanno tra l'altro aggiornato con la pace di ieri la 10.41 adesso disponibile in singolo oppure in gruppo anche se siamo comunque tutti contro tutti a me personalmente piacciono parecchio le zone wars ritengo che siano un ottimo metodo di allenamento per pro player ma anche per giocatori normali ci stanno tantissimo durano poco l'adrenalina è alta quindi io voto assolutamente con un pollice in su ma quindi ciancia alle bande e vando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere anche nell'aggiornamento della pace 10.41 il ritorno della flint knock pistol lo sappiamo tutti la pistola focile quella che già avevamo visto in anteprima nella season 8 non ricordo se nella 9 ci fosse oppure no ritorna fuori dal magazzino mentre non è stato in realtà tolto nulla pistola che come sapete benissimo ha la capacità di ammortizzare le cadute ma anche di dare un bel rinculo al personaggio e quindi ributtarci indietro molta attenzione quando la utilizzate ad altezze elevate ma arrivano anche ragazzi le prime informazioni sulle overtime challenge avete già capito da questa immagine che si parlerà e si otterranno tre stili personalizzati per l'astronauta il lama e la bright bomber ma non è l'unico non sono gli unici premi arriverà anche la schermata di commemorazione della season numero 10 quella di caricamento e anche lo stile per il backpack dell'astronauta sappiamo anche che ci dicono direttamente dalle fonti ufficiali delle notizie di fortnite eroi senza tempo siamo in bilico fra il tempo straordinario e non avere più tempo completa gli obiettivi nelle missioni di eroi senza tempo per ottenere le ricompense di fine stagione con punti esperienza oggetti estetici e schermate di caricamento commemorative eroi senza tempo inizierà l'otto ottobre quindi fra pochissimo ragazzi saranno disponibili ma andiamo avanti con il prossimo argomento sappiamo anche nelle novità della patch 10.41 che è stato reinserito un edificio a noi molto comune praticamente quello che state vedendo direttamente dai file di gioco non è altro che il modello in 3d dell'edificio di pinnacoli la prima pinnacoli edificio quello in centro in poche parole è stato sostituito al vecchio edificio ancora presente nei file di giochi di gioco relativo a tilted town la domanda che ci poniamo ovviamente perché hanno voluto inserire questo edificio un possibile ritorno di pinnacoli nella season 11 diciamo che nella season 11 ragazzi che cavolo suoni tu nella season 11 ragazzi in realtà non sappiamo ancora se verrà totalmente cambiata la mappa oppure la rivedremo così com'è molti dicono che cambierà io stesso mi auguro che cambierà totalmente devono farlo dopo 10 stagioni ne varrebbe davvero la pena quindi con il beneficio del dubbio ragazzi vi faccio vedere ovviamente quello che ho visto anche io e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi eccola qua alle mie spalle meravigliosa e altrettanto semplice questa inquadratura della nuova mappa 1v1 o meglio del concept che stanno sviluppando oramai da un bel po di mesi quelli di epic games probabilmente io ricordo di aver visto queste foto un paio di season fa poi non se n'è più parlato poi sono riapparsi ed è veramente incredibile perché è una piccola isola dedicata che potrebbe tranquillamente diventare o una ltm o inserirsi proprio nei vari tipi di gioco abbiamo anche altre immagini una bellissima inquadratura dall'alto come vedete quattro montagnette una parte centrale e un sacco di posti per buildare e imboscarsi una perfetta mappa per due giocatori probabilmente sarà presente anche la safe che ovviamente renderà il tutto più difficile e più competitivo non vedo veramente l'ora di vederla in game perché secondo me sarà veramente una grande grande figata e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi siamo arrivati oramai all'ultima settimana di questa season 10 e le missioni si chiameranno last stop in italiano ultima fermata abbiamo già l'elenco degli obiettivi che dovremo compiere fai danni con armi silenziate ai tuoi avversari un totale di 500 danni fai eliminazioni con fucili d'assalto gli ar gli ak gli scar probabilmente anche infanteria tre avversari da eliminare cercare forzieri a loot lake oppure a borgo allegro per un totale di 7 e visitare diverse location nominate quindi diverse città in una singola partita per un totale di 10 quindi vedremo un certo punto gente che sfreccia a destra e a sinistra con i driftboard e ci chiederemo che cavolo stanno facendo stanno facendo la sfida come vedete nei premi sono 30 stelline del pass battaglia e l'ultima schermata di caricamento quella che già vi avevo fatto vedere dove si vedono appunto i player di fortnite che salutano l'autobus e ci chiediamo ovviamente il perché queste invece sono le sfide delle overtime challenge come vedete gli stili sono la in alto completare il passo a livello 47 completare tutte le out of time challenge arrivare al livello 70 del pass arrivare a livello 87 collezionare questa la più interessante vi farò un video in modo che sappiate anche voi dove trovarle le musica 7 del visitor nella nell'isola volante e il reterro che dovrebbe essere ma porca miseria mi sfugge sempre il nome in italiano comunque quello della porca miseria quello dove c'è la neve in poche parole sotto borgo sotto boschetto bisunto mi sfugge sempre il nome mi sfugge ci sono altre sfide che invece sono fare danni agli avversari collezionare altre cassette sopravvivere agli avversari cercare forzieri per ottenere una badilata di punti esperienza e anche finalmente l'ultima schermata di caricamento che è proprio quella commemorativa della season 10 io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video news anche di oggi vi ricordo che noi dalle 8 siamo in live su twitch con fortnite ciao 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 ciao